Buongiorno, sono il generale di brigata Ottone Brunito, parlo con la clinica di Bannè Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Salve, vorrei prenotare una visita cardiologica È possibile? Il vostro cardiologo è disponibile Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Vorrei prenotare una visita col cardiologo Grazie Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Io sono il generale Ottone Brunito e mi serve un cardiologo Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Ma insomma, si può prenotare o no questo cardiologo? È inutile che mi dice che questa è la clinica di Bannè, non sono un imbecille, ho capito Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Ma insomma, io sono il generale Ottone Rincoglioni, no, Ottone Scimunito, no, Ottone... Lei mi confonde, io sono il generale Ottone Rimbambito e voglio parlare con un astrologo Sì, questa è la clinica di Bannè, dica pure Giuseppina Giuseppina, scusa Ma che hai levato la suoneria della segreteria telefonica? Ieri sera mi sono scordata di farla inserire in automatico dopo le 12 Guarda, è rimasta inserita, invece ho scordata Beh, vabbè Tanto, non ha chiamato nessuno Attiva il telefono, va Clinica di Bannè Prenota pure Clinica di Bannè Della salute Ti sale